Preoccupati, bisogna esserlo, anche se la situazione in confronto allo scorso anno è molto diversa. Lo scorso anno, da ottobre a marzo, aprile del 2021, è stato veramente un incubo affrontare quello che abbiamo affrontato. Il pericolo maggiore, secondo me, è l'abitudine a questa malattia. Ci siamo abituati e questo comporta una diminuzione delle precauzioni. Se noi andiamo a guardare i numeri, ci dicono che la vaccinazione protegge. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso avevamo quasi 800-900 deceduti al giorno, numeri ben più alti di quelli che abbiamo quest'anno. In ogni caso, vorrei ribadire che il 5% dei soggetti vaccinati rimane ancora suscettibile alla malattia stessa. E che poi, dopo sei mesi, la capacità di protezione del vaccino diminuisce. E questo fa capire come la terza dose sia molto importante. E questo fa capire come la terza dose sia molto importante. Grazie. 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 Grazie.